gentili telespettatori buona giornata c'è un silenzio assordante sembrate che il silenzio fa rumore provate a stare in silenzio lo sentite che c'è una specie di fischio costante quando voi dite a che bello che silenzio non sento passare una macchina nulla si muove c'è silenzio totale ma quel silenzio è una specie di fischio l'avete notato silenzio che in realtà non è un silenzio le nostre orecchie il silenzio lo interpretano come un suono una roba come quando c'è l'equalizzatore col volume o lo stereo però che non sta trasmettendo musica ma col volume a tutto al massimo si sente quel sottofondo questo è praticamente il nostro orecchio ma qui parliamo di un silenzio assordante imbarazzante della sinistra voi direte per cosa è un corteo che sto guardando un cartello fatto in questo corteo allora c'è una con i capelli completamente arancioni che insulta il governo voi direte perché è perché il femminicidio è colpa dello stato a sì sì secondo questi manifestanti è colpa dello stato non di uno squilibrato è colpa dello stato e c'è il cartello con scritto femminicidio uguale omicidio di stato che profonda riflessione caspiterina mi vengono quasi i brividi mi vengono quasi i brividi anzi mi vengono i brividi e così a milano l'altro giorno mercoledì un corteo femminista per ricordare giulia bravi mi fa piacere parte dall'università statale benissimo una coda rumorosa intimidatoria vanno davanti la sede del giornale libero quotidiano e voi direte ma cosa c'entra libero quotidiano con il corteo femminista per ricordare giulia cosa c'entra libero quotidiano l'idea era quella di contrapporre al minuto di silenzio andato in scena negli istituti scolastici il minuto di rumore per sensibilizzare sulla piaga dei femminicidi di stato di stato non era colpa di questo filippo adesso è colpa dello stato però al plurale femminicidi di stato guardate che non siamo sotto un regime di quelli sudamericani dove facevano sparire le persone ho visto un documentario l'altro giorno terrificante e lì c'erano omicidi di stato quindi giocare al regime e a quelli che manifestano contro il regime mi sembra alquanto infantile e sempliciotto se ci fosse veramente un regime non potreste manifestare se manifestate vuol dire che non c'è un regime capisco che voi non sappiate neanche cosa sia un regime ma vi assicuro che è differente sotto un regime molto differente comunque coperchi borracce chiavi hanno fatto rumore per ricordare giulia però quello che non mi quadra è il femminicidio di stato e quello che non che mi quadra ancora meno è andare a insultare e circondare il palazzo dove c'è la sede di un giornale che è un giornale che possiamo dire di centrodestra perché un giornale di centrodestra ma loro dicono siamo siamo andati lì per ribadire che la narrazione tossica è la narrazione violente patriarcale come che comunque perpetra la vittimizzazione secondaria che non solo le vittime ma le persone le collettività vicine alle vittime sono costrette ad ascoltare e mi sembrano parole così a caso cosa c'entra libero beh narrazione di libero tossica violente patriarcale dicono cioè libero quotidiano come narra i fatti sarebbe una narrazione tossica violente patriarcale e poi sarebbe libero quotidiano responsabile della vittimizzazione secondaria e che è il santorio lashline che parlano la vittimizzazione secondaria la vittimizzazione secondaria difficile da capire libero ha dei titolisti veramente di quella roba lì al pelo del fascismo anzi forse proprio fascisti quelli che fanno i titoli sono dei fascisti sicuramente razzisti dicono è omofobi sessisti questo è poco ma sicuro dicono gridando sotto sotto la redazione di libero difficile trovare delle parole per per commentare una cosa del genere voi avete capito no per la sinistra che manifesta non avendo argomenti l'economia va bene non sanno che cacchio dire c'è il caso giulia il caso giulia sarà colpa del patriarcato che non esiste più patriarcato una dei capisaldi uno dei capisaldi del centrodestra non è vero allora se uno dei capisaldi del centrodestra il caso giulia è colpa del governo e dei giornali che sostengono il governo quindi se siamo sotto un regime i giornali che sono di centrodestra sono fascisti come il governo o mamma mia mamma mia ma siete proprio messi maluccio e voi dite di essere quelli acculturati quelli che hanno studiato quelli che sanno ragionare quelli che pensano bene mamma mia pensate se non eravate quelli caspita è un ragionamento questo che ho difficoltà a definire ragionamento e poi direi che sono cose non le chiamo ragionamento ma le chiamo cose sono cose a dir poco farneticanti a dir poco farneticanti davvero una parte dell'italia è messa così davvero una gran una parte dell'italia è a questo livello cioè siamo a questi livelli di andare ad accusare un giornale di idee di centrodestra accusarlo di fascismo patriarcato di cos'è vittimizzazione secondaria sono razzisti omofobi sessisti non so davvero diciamo che io avevo sopravvalutato gli italiani credo proprio di aver sopravvalutato gli italiani da quando ho il canale e ho visto i ragionamenti e ho visto seguendo cinque anni assiduamente i giornali qual è il pensiero medio in italia sono arrivato alla conclusione che non avevo capito un cavolo dell'italia e degli italiani ultimamente credo di avere un quadro molto più preciso e vi posso dire che avevo decisamente sopravvalutato i miei connazionali il livello è molto più basso di quello che immaginavo quando avevo 20 30 anni molto molto più basso arrivederci a tutti e grazie